Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo episodio di microcuse sul vale Episodio numero 6 Come potete vedere alle mie spalle c'è lo spawner Che come avevo detto è stato completato nella sua interezza Alla fine ho optato per la versione che mi dà anche esperienza Certo avrei potuto farlo più basso in modo che ci mettesse meno tempo a fare il tutto Però Sicuramente non ce l'ho parla di farmarmi gli alberi Si perchè già c'ho messo il modello a farmare tutta la cob E sono detto boh sciadarsi Facciamo così Che va benissimo Non è vero quello vabbè L'unico problema è che sai cosa forse mi conviene ucciderli Con una spalla di pietra perchè io non ho il ferro infinito come nella skygrind L'unica cosa che ho infinita è il legno La pazienza e la cobblestone Ergo Facciamoci un paio di spalle di cobblestone Certo ci mettevo di più ad uccidere ma come vi dicevo la pazienza ci vuole infinita in questo tipo di mappe Altrimenti Ciao buonanotte Boom An bestia Oh Nato del grano Tutti abbiamo risultato fk era anche ora Boom panino Mangia tutto Mangia tutto Muy bien Poi vabbè con il fatto che ho già delle bellissime ossa posso già fare altro cibo Vedi il fatto di avere le ossa c'è una comodità unica Cioè ti risolve la vita praticamente bellissimo Eh cazzo fai crescere l'erba madonna Ancora questa erba Dai su dammi tutto il grano che possa esistere in sto mondo Mamma mia va che bello Va che bello se non sbaglio una cesta ne ho uno che avanza perfetto faccio quattro panini Dei ristorci Perfetto Lo stessimi che mi avanzano Vabbè Andiamo Beh andiamo a dormire Perfetto Guarda mi ha droppato un po' di roba Mi ha droppato un arco Un cappellino Un'armatura di oro Vabbè Frecce Ossa Beh però l'arco è utile in effetti Perché mette caso che c'è qualche scheletro bastardo In effetti negli ultimi minuti Cioè prima che iniziasse la gestazione E lì spawnavano sempre questi cagni bastardi E ho detto boia Vuoi farmi fare casino così Oppure guarda là che c'è un creeper ozzo È lo stesso creeper di prima tra l'altro mi sa eh Boom Morto Sono contento Lo slime Cosa fa mi peggio per il culo Due slime addirittura E nessuna slime ball Mi sembra giusto Mi sembra giustissimo Vuoi dire che questo è un bioma degli slime Ottimo perché una achievement dice di craftare uno sticky piston Eh senza slime ball Volevo vedere come Kaiser faceva Buono Buono Interessante Allora poso un attimo tutte queste ossa E poi ci accingiamo ad entrare in quel cubo Nel quale secondo me troveremo La cosa che stiamo cercando Cioè lo smeraldo Che posso prendere con i piccoli di diamanti Quindi siamo a posto Mi porto dietro solo un po' di cobblestone E un po' di lano Non si sa mai Metti caso finisco la cobblestone Cibo Tre panini dovrebbero bastare Mi fa mi riempire un attimo questo Piccolo secchetto Di l'acqua Di l'acqua Acqua E andiamo Sai che quasi quasi Mi faccio No 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 Facciamoci un ponte che vada di là Perché così siamo più sicuri L'unica cosa è che forse Mi sarebbero servite più torce in effetti Ma noi siamo scialli Perché a noi fotte seghe essenzialmente Ok Vieni qua Facciamo un bel ponticello Che va da qui Fino a quella zona Per fortuna che è giorno Anzi per fortuna che ho letto quel commento Che mi diceva di usare la lana del Del coso Beh avevo trovato le pecore lì Quindi in effetti L'avrei comunque fatto Eccolo lo smeraldo Minchia Troppo forte L'ho detto che lo trovavo là Questa fosse tipo dentro una cesta Invece no Vabbè meglio Così possiamo anche assistere Al bellissimo spettacolo Che si chiama Espansione Del bordo Va come si espande Lo vedi come si espande Troppo figo Troppo figo zio Allora Ecco la cosa Fai mettere delle torce qui Che non voglio che spawni nessuno Ho pochissimo cobblestone addosso Voglio cercare di entrare qua dentro Anche se so che è pericoloso come la merda Allora appena vedo Uh diamanti Minchia Ci tratta bene sta mappa eh Diamanti Ferro Ferro Cobblestone Che comunque mi serve Altri smeraldi Non mi lamento Non mi lamento per niente L'unica cosa è che sento degli scheletri Lo so che ho un po' di armatura addosso Cioè armatura C'ho un pezzetto di D'oro Un pezzetto di Di pelle Però Madonna quanti cazzo di diamanti Poi Madonna Cioè posso fare la spada Anche addirittura Posso fare l'armatura Non mi lamento eh Non mi sto lamentando L'unica cosa è che Non so se sto facendo una cosa giusta Scavare tutte le fondamenta Perché se trovo un creeper Ed esplode Cado nel vuoto E se cado nel vuoto Con tre diamanti Quattro smeraldi E tipo la fortuna Di un tesoriere greco No Questo non lo accetto Non lo accetto Però boia quanta roba Potrei starci qua le ore A scavare Ti immagino se in minecraft Ci fossero le caverne così Cioè Episodi di mining Tutti i giorni Tutte le stagioni Tutte le sere Tutte le notti La bestia proprio Ok Allora Lasciamo stare un attimo Tutte queste cose bellissime E cerchiamo di entrare Nell'animo Della festa Eccolo qua Legno Merda ho finito le torce Avessi del legno Cazzo eccolo il legno Allora Apriamo a fare così C'è qualcuno? Ok Allora facciamo anche così Cos'è? Ragni Abbatti 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 Ok ok Allora Andiamoci un attimo in disparte Vediamo questi due pezzetti Per craftarci Delle torce Boom Perfetto Ora posso andare ad esplorare Là c'è del ferro Tra l'altro Buongiorno Allora Perfetto Buono Perché la spada mi stia finendo C'ho con una spada di pietra No no La spada di pietra L'ho lasciata Alla base Sicuro Mi pareva di avere portata una Non l'ho portata Va bene Allora Oh c'è Della cobweb Una golden sword Con looting 1 E unbreaking 1 Non mi lamento Non mi lamento Lo so che la spada d'oro È quella che fa più cagare In assoluto Nel mondo Però All'enchantment C'ha looting E unbreaking Non mi lamento Ho altri tre panini E una nintag Buono Potrei dare il nome A qualche mucca Minecart Queste rotaie le prendo Perché non si sa mai Cosa potrebbe succedere Potrebbero essere utili Tutte queste cobweb Non le prendo Anche perché non potrei Una mela Anche qui Non mi lamento Più che altro Mi prendo la cesta Perché la cesta Fa sempre comodo Sono praticamente Due log di legno In meno sprecati E qui Altre ossa E delle bottle of enchanting Ok Muy Bieno Allora Il prossimo achievement Se non ricordo male Trattava Il dover creare Della prismarina La prismarina E quella cosa Che si crafta Con i drop Dei Dei guardiani Ora Non vorrei dire Cabanate Cabasate Quelle cose lì Ma dovrebbe esserci Un Un cubo Anche detto Bioma Acquoso E lo ho appena Visto Io vado anche Però A piazzare delle torce Qua sopra Per il semplice motivo Che mi danno fastidio Quello secondo me È il bioma Adatto Per trovare la prismarina Se vedete È anche proprio Pochissimo All'interno Cioè Sto orando I cubi In cui potrei andare Quello è coperto Là ci devo ancora andare E là ci devo ancora andare Devo andare in quella direzione Devo passare anche Per quello della sabbia E devo assolutamente Sare attento Al fatto che io Ci potrei morire Come un cagno Bastardo Da un secondo All'altro Potrei passare I prossimi minuti Molto tranquillamente Raccogliare tutta la cobblestone Che c'è in questa zona Perché Usare il cobblestone generator È utile È comodo Ma è davvero Una rottura Di cabasisi Che manco Non lo so Cioè Manco Davvero Non so manco Che paragone fare Da quanto è palloso Quindi potrei Tranquillamente Rivedervi Tra qualche minuto Ok Ho preso un po' di roba 30 pezzi di ferro 4 pezzi di oro 4 diamanti 5 smeraldi 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 stacche 20 pezzi 19 pezzi di cobblestone E 45 pezzi Di carbone Direi che mi ritengo soddisfatto Anche se non ho preso tutto Sinceramente non c'ho voglia Beh Anyway Da dov'è che sono venuto io? Da di qua Aspetta Andiamo Ok Vediamo però La rezza La prendo molto volentieri Quando vedo la roba Non possono prenderla Dai su Non puoi farmi questa roba La bislazione Se me se scavo qua sotto Trovo altri diamanti Ma chi è che sta tagliando l'erba? Cosa stai Ma cosa stai facendo? Non la domenica mattina Madonna Ma cos'è? Madonna Sì io sto registrando Eccoli qua altri diamanti Sto registrando di domenica mattina Perché mi porto avanti Altrimenti qua Non ce la faccio Anyway Anyway Comunque Allora come vi dicevo prima Il prossimo obiettivo È la prisma Nain shard E per ottenerla Devo andare nel bioma Che è fatto d'acqua Madonna quanta gente Che c'è là sopra Sopra casa mia? No Ma quasi Guarda che cade Ma che stronzo di merda La smetti Tagliare l'erba Tagliare l'erba Mamma mia raga Allora Uccidiamo questo Perfetto Poi me ne scappo un attimo Madonna che casino Mi tocca chiudere la finestra Ok dicevo C'è troppa gente qua sopra Però intanto io poso tutto Assolutamente tutto Troppa roba nell'inventario Per poter rischiare di perdere In qualsiasi modo possibile Immaginabile Tutto il mondo dei mondi Ok Ciao Ah qua ho fatto anche la piccola protezione Perché non si sa Magari mi scivola il mouse Oppure cambio direzione all'improvviso Cazzo ne sai Può capitare di tutto Non ho le frecce Cazzo ho usato le frecce E vabbè Io però devo andare di là Pericolo? Muy pericolo Molto pericoloso Ok Ok Quanti ossa ho? Avevo un paio di ossa? Boia Ok Mi faccio un bordello di cibo Almeno do Ecco Sono coglione proprio Non dobbiamo mangiare anche le mucche e le cose E ora vado anche a dormire Così si fa giorno E la gente là sopra il tettuccio Diminuisce Anzi non dormire subito Ci sono mostri vicini Certo Io sto spawner di zombie Posso anche disabilitarlo Ora volendo Perché Ormai che ho le ossa infinite Dai su Morite che non vi costa niente Andando sempre a lamentarvi Ah Forse manco utili Forse utile alla società Capisco Ma neanche Beh Ok A proposito Andiamo a controllare Qual è il prossimo achievement Perché io Ho provato a dirlo Ma non ne sono sicuro Esatto La prismarine shard No Il blocco di prismarine Che non so Come riuscirò a fare Provo ad andare lì dove c'è l'acqua Però prima devo passare Dalla piramide Funziona così Anzi no Devo andare per di là Ok Ho completamente sbagliato Prendiamo Prendiamo Un paio di stack Di cobblestone E ci Avventuriamo In quella direzione Senza temere La quantità di scheletri Imane Che cercherà di buttarmi giù Dai fossi Comunque Per questo episodio È tutto Vi ringrazio tantissimo Per la visione Vi ricordo di lasciare Mi piace Se vi è piaciuto Questo episodio Di iscrivervi al canale Se ancora non l'avete fatto E vi ricordo Che ogni giorno Alle 7 Esce questa serie Microcubes Survival Sul canale All'uno Un altro video E ogni tanto Alle 4 Anche il terzo video Giornaliero Io vi ringrazio tantissimo Per la visione Spero di trovare Là sopra Ciò che sto cercando Noi ci vediamo Nel prossimo episodio Ciao Turuturututti Grazie